Alaska Air Group analisi mensile novembre 2020 Allora abbiamo già visto qualche giorno fa l'aggiornamento di Southwest Airline che ha un grafico abbastanza simile a quello che insomma aggiorniamo oggi di Alaska Air Group quindi una compagnia aerea quotata al Nise quindi vediamo appunto l'aggiornamento in questione allora rimarcherei la candela di marzo eccola ok aggiungerei le due aree vendute importanti come target che diventano appunto dei target ma quindi anche degli ostacoli per la salita ipotetica per la prosecuzione della salita del long allora questa direi che questa prima area in realtà di marzo venduto su febbraio come minimi possiamo praticamente andare anzi no abbiamo ancora lunedì la seduta del mese corrente che cosa voglio dire voglio dire che teoricamente questa diciamo piccola barriera verrà sconfitta nel momento in cui lunedì a chiusura della giornata di lunedì che va a chiudere praticamente la sessione del mese di novembre questa candela del mese corrente andrà a chiudere sopra questa diciamo resi chiamiamola resistenza tra l'altro vi faccio notare come appunto quest'area venduta era stata prima un'area di massimi comprati guardate qui la candela di ottobre 2014 che compra tutti i massimi dei sei mesi precedenti qua alla fine al contrario diventa un tetto abbiamo visto praticamente come a giugno già avevamo toccato quest'area e il prezzo era stato respinto per tutta probabilità dei long che andavano a target su quest'area e chiudevano le posizioni questo mese di novembre è il primo mese che il mercato compra effettivamente massimi mai nei sei sette mesi precedenti da marzo in poi il mercato aveva comprato massimi quindi qua c'è proprio un'indicazione di cambio di tendenza quantomeno insomma per quello che riguarda questa chiusura di fine anno in cui ci si aspetta sempre questo rally di natale questo rally di fine anno che pare appunto essere in corso la candela di novembre guardate che differenza tra la candela di novembre e la candela di tutti i mesi precedenti cioè è il primo mese in cui praticamente chi è entrato long più in basso non chiude le posizioni se non una piccolissima parte perché guardate le spike e le shadow sopra i mesi precedenti addirittura qua e guardate invece questa candela come praticamente va a chiudere quasi sui massimi ora vedremo alla seduta di lunedì come si comporterà ma sommariamente andiamo praticamente a chiudere sui massimi questo livello qui diventa quindi lo possiamo anche già segnare perché sicuramente quello rimarrà un livello comprato diventa un livello di intervento possibile su tutti insomma di massimi comprati su tutti i mesi precedenti se volessimo andare a cercare un altro livello intermedio probabilmente mi andrei a prendere questi minimi che guardate tra l'altro corrispondono qui a massimi comprati dopo questo piccolo storno qui il mercato comincia a ricomprare massimi quindi abbiamo praticamente tre livelli molto interessanti nel caso in cui il prezzo dovesse arretrare sappiamo dove quando e come intervenire quindi direi che le informazioni da raccogliere su questo grafico sono queste appunto facendo un riassunto abbiamo identificato due aree di target sui minimi venduti delle candele che hanno fatto sprofondare il prezzo da 64 fino a 20 e poi abbiamo le tre aree su cui intervenire in caso in cui il prezzo tornasse indietro nel caso appunto in cui questa area venisse sconfitta venisse rotta, venisse comprata con la chiusura sopra andremo a eliminarla e avremmo come prima area di intervento questa sicuramente nel caso in cui dicembre andrà a comprare questo massimo dirigendosi diretto sulla seconda area di target avremo anche il massimo comprato di dicembre su novembre quindi un'area di intervento nuova niente basta direi che per il momento non andrei a definire altre aree, altre zone abbiamo capito cosa è successo negli ultimi mesi ribadiamo appunto guardate come il prezzo ci dimostra, ci mostra, ci insegna, ci fa capire ci racconta come cambia l'intenzione degli investitori vedete appunto come abbiamo detto e poc'anzi guardate come tutte le shadow superiori ci mostrano l'arco temporale in cui gli operatori operano quindi l'arco temporale sotto il mese perché le posizioni vengono chiuse entro il mese e guardate come cambia novembre l'intenzione di chi è entrato long più in basso ok? guardate come la candela vada a chiudere quasi sui massimi quindi significa che chi è dentro vuole rimanere dentro almeno per questa fine questa parte di fine anno ok? aree definite di target, aree definite di entry situazione di dinamica del prezzo dei mesi passati dopo la candela di marzo ecco attenzione guardate sempre anche che tutto quello che si è svolto fino ad oggi a parte forse adesso la candela di novembre forse perché tra l'altro neanche questa forse ancora ci mostra questo cioè siamo praticamente all'interno del range della candela di marzo ok? tutto quello che è successo in questi mesi si è svolto all'interno del range di una candela solo cioè la candela di marzo basta direi che è tutto abbiamo tratto tutte le informazioni che potevamo trarre utili e contestuali a quello che è la quotazione del prezzo in questo momento senza andare a divagare su cose che non ci servono noi dobbiamo sempre trarre le informazioni utili a spostare le probabilità delle nostre decisioni più verso la riuscita la positività che non il risultato negativo quindi se io devo prendere una decisione ho il 50% di possibilità di fare bene o di fare male quindi devo cercare attraverso le informazioni che raccolgo questo in generale nella vita anche quando io devo prendere una decisione e devo raccogliere più dati possibili più informazioni possibili dal territorio circostante dalle persone per far sì che la mia decisione abbia una probabilità più alta possibile rispetto al 50% di fare bene o fare male anche in questo caso il grafico ci dà la possibilità di aumentare le possibilità oltre il 50% di decidere la cosa giusta ok? niente, per questo grafico per questo aggiornamento è tutto ci vediamo tra qualche mese con l'aggiornamento di questo titolo grazie a tutti